Grazie. 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 Un minuto, cominciamo con la conferenza stampa. Grazie. 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 Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie di essere qua. Come al solito devo chiedere ai capitani, alle capitane delle squadre che sono sempre un po' indisciplinati, di fare un po' di attenzione. No, va bene, al di là delle battute, è un piacere avere qui loro, avere qui le squadre che parteciperanno ai Deaflympics in questo momento di presentazione di uno degli eventi che sono più belli in assoluto dello sport mondiale, ma soprattutto che sono anche più importanti dello sport mondiale, anche se questo in molti casi non viene percepito. Invece siamo qua proprio per fare in modo che questa percezione si cambi, che venga mutata e che venga apprezzato per quello che è anche un evento straordinario come sono i Deaflympics e come sono gli atleti dei Deaflympics e quindi abbiamo una vasta rappresentanza che poi magari in qualche caso andremo anche a conoscere. Ma prima di entrare nel vivo di questa presentazione e prima anche di conoscere qualche atleta e coloro che ci illustreranno, ci porteranno i saluti e ci illustreranno quale sarà e come sarà questo evento, ci sono dei saluti speciali che ci piace condividere con voi. Ciao a tutti, siamo le ragazze del Famila Basket School. Non stiamo indossando la maglia del nazionale perché siamo in trasferta Eurolega. Volevamo farvi un grande boccalupo per i giochi olimpici. E portateci con voi in Brasile. Ciao! Ciao! Buona fortuna! Yeah! Ciao ragazze, sono Miriam Silla e volevo farvi un grossissimo in boccalupo per i giochi olimpici che avrete in Brasile. E forza, non mollate mai, io vi seguirò da qui, ok? Ciao ragazze, sono Anna Danesi e volevo farvi un grosso in boccalupo per le vostre Olimpiadi di Maggio. Ciao a tutti, sono Anna Danesi e volevo farvi un grande in boccalupo per l'inizio delle Olimpiadi. Un bacione grande! Ciao! Ciao ragazzi, sono Ambra Sabatini, ora nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo e sono qui per darvi un grosso in boccalupo. Adesso è il vostro turno, ci sono le vostre Olimpiadi e noi saremo qui a farvi il tifo. Vi auguro tanti successi e soprattutto godetevi l'esperienza al massimo. Forza Italia! Volevo fare un grande in boccalupo a tutti gli atleti sordi che a maggio parteciperanno alle Olimpiadi e in particolare alla Nazionale di Calcio a 11 sordi. Un abbraccio e forza Azzurra! Ecco, erano alcuni degli atleti che naturalmente seguiranno da lontano quelle che sono le gesta di altri grandi azzurri. Andiamo quindi a presentare coloro che saranno qui con me a raccontarvi questo evento, a raccontarvi quello che pensano di questo evento e quindi è un piacere naturalmente avere qui Angelica Vasile, Presidente della Commissione Sport del Comune di Milano. Vieni Angelica! Giussi Versace, parlamentare ma soprattutto atleta. Vieni Angelica, mettiti qui! Soprattutto atleta paralimpica. Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Vieni Luca! Raffaele Cagnazzo, Presidente dell'Ente Nazionale Sordi. Vieni Raffaele, eccoci! Guido Zanecchia, Presidente della Federazione Sport Sordi Italiana. Eccoci Guido! Grazie di essere qui. Prima di cominciare però i saluti di coloro che ci ospitano in questo centro che è bellissimo e che spesso ospita tante iniziative che riguardano lo sport sordi ma in assoluto anche gli eventi del Pioistituto dei Sordi. Quindi inviterei Suor Elisabetta che non so se è dietro il palco. Ah, eccoti qua. Sora Elisabetta, vieni che ci porta il saluto del centro Asteria. Aspetta che prendiamo un microfono. Stai, stai, prendo io un microfono. Grazie, Giosì. Grazie Claudio, grazie a tutti. Un brevissimo benvenuto per questa giornata di introduzione a questo ritiro. Un ritiro che vede qui alla Asteria non solo la palla a volo sorda e che ormai ha una consuetudine nei suoi ritiri nel nostro centro dal 2015. Un cammino cominciato un po' di anni fa grazie a Loredana Bava, alla sua buttare il cuore oltre l'ostacolo portando qui delle atlete che sono cresciute tantissimo. Hanno cominciato a vincere e insieme oggi le accompagniamo ma non solo loro, anche la squadra femminile di basket come quella maschile di pallavolo e di calcio che qui alla Asteria è la prima volta che arrivano. Per cui è con grande gioia che la Asteria vi ospita perché il nostro motto è qui lo sport incontra cultura. E cosa più grande per noi è proprio questo sport che è veicolo di valori sociali, culturali, di inclusione e con voi insieme stiamo facendo un cammino per noi meraviglioso. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutte le ragazze e tutti i ragazzi e spero che questi tre giorni veramente siano di buon auspicio per la vostra preparazione. Grazie, grazie Suora Elisabetta. Un altro saluto importante è per coloro che ci ospitano anche ma sono da sempre vicini allo sport sordi e io pregherei il presidente del Pio Istituto dei Sordi, Daniele Donzelli, portare il saluto di questa che a Milano ma non solo a Milano è davvero una istituzione che nel tempo non solo è rimasta per importanza e per prestigio quella che era ma ha anche aumentato tutto questo. Bene, eccoci qua. Presidente. Grazie per l'applauso. Io sono il presidente del Pio Istituto dei Sordi e insieme con Suora Elisabetta partecipiamo all'organizzazione della disponibilità di questa struttura per accogliervi, per accogliervi, per accogliere le squadre che andranno prossimamente ai campionati mondiali. Sono molto contento che ci siano anche le rappresentanze italiane ai mondiali perché questo è significativo per la nostra presenza a livello internazionale e dimostra che non siamo gli ultimi nello sport, soprattutto nello sport delle persone che hanno dei problemi. Io auguro a tutte le squadre e ai loro allenatori la possibilità di piazzarsi come si conviene in queste manifestazioni pur rendendomi conto di quanto sia difficile perché voi incontrerete le più grosse, in termini di capacità, squadre del mondo che saranno con voi alle Olimpiadi. Auguri e buona continuazione. Grazie Presidente Grazie Giuse, te lo lascio ma l'abbiamo igienizzato. Allora entriamo un po' nel vivo di questa presentazione lo facciamo con i nostri ospiti e mi fa piacere naturalmente sempre essere e poter chiacchierare di sport ma non solo insieme a Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico al quale cederei la parola non solo per spiegare e darci le sue impressioni sull'evento in sé ma in assoluto sul movimento paralimpico, come si evolve e quanto lo sport sordi rientri negli eventi paralimpici. Allora innanzitutto grazie Claudio, grazie a tutti voi, grazie all'amico Guido, Presidente, per avermi invitato e naturalmente mi fa piacere essere su questo palco con degli amici sia alla mia sinistra che alla mia destra con Giuse e tutti gli altri. Innanzitutto saluto tutti, secondo me, quelli che sono i più importanti protagonisti di questa imminente spedizione che sono gli atleti naturalmente che rappresentano il core business di qualsiasi realtà sportiva sono loro i protagonisti e mi auguro che lo possano essere nel senso più stretto del termine perché vedete oggi voi presentate una spedizione per quello che è un appuntamento tra i più importanti se non il più importante nella vostra vita sportiva perché partecipare ai Deflympics significa partecipare all'evento più straordinario, poter recitare sul palcoscenico più ambito nella vita di un atleta sordo, così come le paralimpiadi per gli atleti paralimpici e le olimpiadi per gli atleti olimpici. Quindi, insomma, di questo dovete essere orgogliosi, se non altro, non solo perché vi siete qualificati ma anche perché andrete a rappresentare il nostro Paese e rappresentare il Paese è sempre qualcosa che vi deve rendere orgogliosi, fieri ma soprattutto consapevoli di quello che poi questo Paese, almeno la famiglia paralimpica italiana ma non solo, spero, si attende e spero vi segua così come hanno seguito gli altri eventi sportivi. Vedete, i Deflympics si collocano a seguire di una stagione straordinaria dello sport italiano taccio sul calcio, però una stagione straordinaria dello sport italiano che si è aperta con gli europei di calcio naturalmente ma poi ha proseguito con le olimpiadi, le paralimpiadi in questa stagione straordinaria si collocano i vostri risultati straordinari mondiali di pallavolo femminile e maschile, argento femminile e bronzo maschile l'europeo nel basket che probabilmente, non so se questa sia stata la decisione che vi abbia indotto a scegliere come portabandiera credo che sia la capitana Viola, esatto Quindi già vi siete collocati nella magnifica lunga estate, oramai autunno, dello sport italiano e oggi vi attende un appuntamento importante Io vorrei però con la mia presenza testimoniare qualcosa in più dell'esaurirla in poche parole nel senso che voi sapete, Guido penso più di altri lo sa quanto io creda in un sistema che sia veramente inclusivo dal punto di vista sportivo e con questo con Giussi ne parliamo spesso poi naturalmente siamo impegnati su due fronti diversi ma rappresentiamo una squadra insomma c'è una comunione di intenti poi ciascuno gioca nel rettangolo proprio del campo ma il gol è sempre lo stesso, la rete nella quale segnare è sempre la stessa e credo e mi fa particolarmente piacere che l'Italia abbia dato un segnale importante di condivisione di una comunità sportiva perché voi fate parte della nostra famiglia paralimpica italiana sotto l'ombrello del Comitato Italiano Paralimpico cosa che nella maggior parte dei paesi al mondo non accade credo che l'obiettivo che ci si debba porre è quello di riuscire a portare nei tempi che naturalmente saranno necessari però io ho sempre creduto non nelle rivoluzioni che possono cogliere l'attimo fuggente della rivoluzione e poi non lasciare nulla in termini di eredità ma nei lenti processi riformatori che però ti consentono di conquistare spazi, diritti, dignità dai quali non si può più tornare indietro per cui io mi auguro che il vostro movimento sportivo che almeno al nostro interno stiamo tentando di valorizzare sempre più con attenzione naturalmente nei limiti delle cose che possono essere fatte nei limiti di quello che possiamo fare ma vi assicuro e questa è una cosa che ho promesso a Guido sin dalla prima ora che ogni qualvolta io troverò lo spazio di riconoscere maggior rispetto, dignità un atleta sordo lo farò abbiamo degli impegni ho dei personali impegni con la federazione bontà di Guido nel comprendere questa mia filosofia d'approccio perché non sempre il rivendicare il risultato solo perché si appartiene a una categoria culturalmente ci aiuta a raggiungere un risultato in termini di dignità a volte i risultati si ottengono costruendo quei percorsi di semina dal punto di vista culturale tanto che poi nel momento in cui arriviamo a far gol con Giussi si sono creati i presupposti per cui tutto è diventato tremendamente normale quindi noi dobbiamo puntare a una normalità di azione di politica sportiva e è quella sulla quale io sono fortemente impegnato per cui ecco con la mia presenza di oggi vi volevo anche rinnovare questa mia consapevolezza ma ve lo dico con grande semplicità non perché lo debba perché magari Guido mi vota o non mi vota non mi interessa io lo faccio da uomo di sport perché ci credo perché siamo partiti da molto lontano qua vedo il mio presidente del comitato regionale Pierangelo Santelli Lombardia che sa perfettamente da dove siamo partiti poi te Claudio non ti devo insegnare nulla e ci siamo conquistati tutto sul campo ma mai anteponendo una rivendicazione di tipo sindacale ma sempre anteponendo una rivendicazione di tipo culturale che è una cosa completamente diversa siamo riusciti piano piano a raggiungere risultati straordinari non ultimo quello grazie anche all'impegno politico e parlamentare di Giussi dell'ingresso nei corpi dello Stato e nel gruppo paralimpico di difesa ho un mio impegno personale a garantire che anche degli atleti sordi possano quanto prima partecipare ai bandi mi sono collocato uno spazio temporale nei miei obiettivi per lavorarci però sono sicuro che lo otterremo questo Guido glielo ho detto di dietro ma glielo dico anche davanti pubblicamente perché non sono notoriamente un politico mi prendo degli impegni e tento poi di portarli avanti e fortuna il Signore mi ha concesso fino adesso di realizzarli tutti quanti per cui ci sono delle cose che ancora dobbiamo fare per aiutare il vostro movimento sportivo che merita dignità e rispetto al pari naturalmente di tutto il resto del movimento paralimpico però io mi aspetto e Guido lo sa che anche dal punto di vista del vostro movimento soprattutto a livello internazionale ci sia la consapevolezza che per poter arrivare ad ottenere tutto occorrono degli sforzi anche da parte degli organismi internazionali nel comprendere che bisogna accettare delle regole di democrazia di visione di comunità sportiva che altrimenti impediscono soprattutto a livello internazionale quella integrazione che a mio modo di vedere è fondamentale e siccome voi sapete che un conto è includere e un conto è integrare perché includere significa prendere una parte dell'insemmistico una parte di un gruppo inserirlo in un gruppo più grande ma quel gruppo rimane sostanzialmente sia pur inserito nel gruppo più grande a sé stante integrare significa rompere la circonferenza rompere il perimetro di quel gruppo mischiare i colori mischiare le differenze valorizzare le differenze creare comunità creare cultura per fare questo serve lo sforzo di tutti quindi serve lo sforzo anche dell'organismo internazionale cui voi fate riferimento nel comprendere che per poter arrivare a poter vivere un evento da noi si chiama Paralimpiade nel vostro caso si chiama da noi nel senso per i ragazzi con disabilità di tipo fisico o non vedenti e ipovedenti da voi si chiama Deflympics io sogno non so se lo vedrò io non lo so probabilmente spero di sì ma consigliato che abbiamo messo 22 anni per arrivare dove siamo arrivati partendo dalla vecchia federazione italiana sport handicappati quindi immaginatevi di che cosa parliamo non so se lo vedrò io io so solo che ci la metterò tutta affinché a un certo punto la Paralimpiade possa essere effettivamente il più alto momento sportivo della disabilità nel mondo che non è diciamo il più grande appuntamento sportivo è il più importante per il futuro perché su una Paralimpiade si costruisce il futuro della cultura e della socialità nei paesi e nella comunità per cui il mio auspicio è che voi tutti atleti ringrazio naturalmente i tecnici perché poi insomma spesso ce ne dimentichiamo ma dove c'è un grande atleta c'è sempre un grande tecnico dietro e il grande tecnico spesso è l'evangelizzatore delle come li chiamo io non me ne voglio sto in un ambiente suora però è l'evangelizzatore dello sport in Italia quello che avvicina quello che convince quello che ti porta in palestra quindi io mi auguro che voi tutti atleti tecnici tutta la delegazione possa partecipare a questo importante appuntamento sportivo che è anche il più grande ma è il più importante per il futuro consapevoli che state onorando la maglia azzurra state onorando il paese la vostra federazione la famiglia paralimpica ma state anche costruendo un pezzo di strada state facendo un pezzo di strada per tutti quelli che verranno dopo di voi come abbiamo fatto noi che oramai siamo un po' abbiamo i capelli bianchi Pierangelo Santelli oramai è un uomo distrutto non è irriconoscibile rispetto a quando era un giovane è diventato nonno però insomma stiamo costruendo un pezzo state costruendo e state compiendo un pezzo di strada attraverso la quale stiamo disegnando il futuro e io mi auguro che chi verrà dopo di voi dopo di noi naturalmente possa continuare su questa strada perché stiamo facendo del bene al mondo sport italiano tutto perché siamo due facce della stessa medaglia olimpica e paralimpica ma stiamo facendo bene al paese perché in questo modo anche noi piccolini siamo piccolini non contiamo nulla ma stiamo aiutando un paese a essere un po' più civile un po' più eco un po' più giusto grazie Luca grazie perché sempre ci dai degli spunti importantissimi mi fa piacere poi che abbia parlato per primo perché hai indicato delle belle strade che credo tutti noi dobbiamo cercare di percorrere Guido insomma Luca ha accennato tante cose anche a non riesco a segnare con la mascherina sul volto ok Luca ha indicato tante strade tante cose ma ma ora a te la stessa cosa di Luca andiamo sull'evento ma andiamo anche in maniera più generale a quello che è lo sport sordi oggi in Italia bene grazie intanto volevo salutare tutti tutte le persone presenti a questa conferenza stampa tutti quanti e anche ai protagonisti di questo evento è un evento internazionale e volevo portare i saluti della federazione a tutte le persone intervenute oggi per me è un po' difficile esprimere concetti ringraziamenti profondi e sentiti diciamo per quanto riguarda l'evento delle Def Limpics a Luca Pancalli spesso le persone sorde gli atleti sordi sono stati un pochino messi da parte mentre lui si è sempre battuto perché ci fosse la loro presenza per esempio alle finali dello sci il contributo del CIP è stato davvero notevole ci ha dato veramente tanto davvero io esprimo il mio ringraziamento e la mia amicizia più profonda a Luca Pancalli e porto i ringraziamenti ovviamente a nome di tutta la federazione e questa è la prima cosa che volevo dire e poi vedo qui sul palco assieme a me persone che stimo enormemente magari voi potete pensare che qualcuno di loro non susciti in me in realtà una grande stima ma non è vero il presidente della commissione il presidente del Lens il presidente del CIP parliamo di un gruppo di persone alle quali io faccio i miei più sinceri complimenti e ringrazio davvero davvero anche gli sponsor presenti oggi la Cattolica Assicurazioni la Banca Sella la Stella la Stella Ardesia Ranocchi il Pio Istituto tutti gli sponsor che ci hanno dato un contributo non certo trascurabile ci hanno aiutato enormemente a crescere e credo che non i problemi a questo punto possano diventare trascurabili e possiamo proseguire nei nostri obiettivi io vi faccio una preghiera in particolare ai giornalisti di seguire gli atleti intervistarli scrivere di loro e diffondere le loro storie perché altrimenti non come dire non saranno saranno impossibilitati a dare realmente il loro contributo noi dobbiamo dare tanta visibilità a mezzo stampa a questi atleti e a queste persone a cui va la mia grandissima stima le Deathlympics quest'anno per la prima volta nella storia si svolgeranno in Brasile è la prima volta che hanno luogo in America del Sud nella storia delle Deathlympics non sono mai non si sono mai svolte in questa regione si sono svolte in diverse parti del mondo ma a memoria mia io credo che sia un'occasione per guadagnare tantissime medaglie e progredire sotto il profilo atletico e sportivo anche per gli atleti che parteciperanno per questo io voglio ringraziare davvero tutti davvero tutti i presenti grazie grazie Guido grazie delle belle parole grazie dell'invito che hai fatto alla stampa ai giornalisti e allora mi permetto anche di ringraziare un amico come Lorenzo Roata che è qui con le telecamere della RAI perché la RAI ciao Lorenzo perché spesso noi guardiamo l'erba del vicino e pensiamo sempre sia più verde mentre in questo caso la nostra televisione pubblica è una delle televisioni anzi forse in assoluto la televisione di riferimento nel mondo per quanto riguarda lo sport paralimpico nessuna televisione al mondo trasmette tante ore di sport paralimpico come la RAI e quindi grazie anche di aver ricordato l'importanza della stampa e l'importanza comunque della comunicazione nel mondo dello sport sordio e dello sport paralimpico in generale noi guardiamo i grandi eventi ma i grandi eventi hanno importanza molto anche sul territorio e allora mi fa piacere che si sia con noi Angelica Angelica Vasile che è la Presidente della Commissione Sport del Comune di Milano una delle commissioni davvero in questo momento più importanti perché andiamo verso l'evento di Milano Cortina e quindi è un piacere fra l'altro noto che non è venuta da sola ma fra un po' mi sembra che saremo va bene grazie grazie Angelica dicevo quanto è importante anche sul territorio lo sport praticato da chi ha disabilità in questo caso lo sport praticato da chi ha una disabilità uditiva puoi utilizzare quel microfono che abbiamo già igienizzato Angelica grazie grazie davvero a tutte e tutti voi grazie soprattutto al Pio Istituto dei Sordi a Stefano Cattaneo per l'invito ho avuto modo di conoscere il Pio Istituto dei Sordi devo dire nel precedente mandato di Beppe Sala in consiglio comunale perché presiedevo la commissione politiche sociali e mi fa piacere che tu abbia sottolineato quanto sia importante lo sport in questa consigliatura in questo secondo mandato del nostro sindaco e di questo consiglio comunale perché non a caso ho scelto una commissione come quella sport turismo e politiche giovanili mi fa piacere vedere così tanti giovani qui l'ho scelta proprio alla luce del fatto che volevo portare le conoscenze gli studi che ho condotto in questi cinque anni precedenti all'interno delle politiche sociali in particolare sulla disabilità le volevo portare nel mondo sportivo una un'impressione che ho non è solo mia e di tutti noi è che a volte la città non è abbastanza accessibile cosa significa accessibile per le persone con diverse disabilità non ve ne è solo una e lo sappiamo non vi è solo quella motoria non vi è solo quella uditiva e non vi è solo quella intellettiva e così via quindi le cose che ho osservato che ho studiato che ho cercato di portare avanti anche grazie al Pio Istituto dei Sordi mi hanno fatto pensare che ci volesse sempre più un approccio si suol dire mainstreaming insomma vuol dire un approccio in cui tu tieni insieme più politiche non guardi lo sport solo fine a se stesso o guardi la metropolitana solo fine a se stessa ti domandi ma questo sport da quante femmine da quanti maschi viene praticato e di queste persone se vi è uno studente una studentessa con una disabilità trova la società sportiva che poi gli fa fare sport e così via questo mezzo di trasporto è accessibile ad una persona non udente ad una persona non vedente sì o no come fare a renderlo come si diceva prima abbiamo usato il termine inclusivo possiamo utilizzare il termine accessibile a tutti e tutte l'importante poi è fare perché tra le belle intenzioni a volte della politica e le messe in atto vediamo che purtroppo ci passa in mezzo tanto però mi fa piacere giusto ricordare un paio di di cose che abbiamo anche fatto con il Pio Istituto di Sordi quando presedevo le politiche sociali a proposito di integrazione perché in questo caso è proprio un'integrazione non un'inclusione anche se li abbiamo chiamati parchi gioco inclusivi abbiamo portato avanti il progetto di far nascere i primi parchi gioco per bambini con diverse disabilità cosa vuol dire che i giochi io all'epoca chiesi consiglio anche al Pio Istituto di Sordi ovviamente anche a tante altre associazioni anche i non vedenti i pudenti e associazioni che si occupano e la Leda e così via chiesi a loro consiglio su quali fossero i giochi migliori nel mercato all'interno dei giochi per bambini che potessero essere usufruiti contemporaneamente da un bambino cosiddetto normodotato insieme ad un bambino con una qualunque tipo di disabilità adesso ce ne sono ce ne sono parecchi nel comune di Milano ce ne sono nove quasi uno per municipio per me ancora poco nel senso che integrazione significa che tutti i parchi gioco da adesso in poi devono essere così non ne basta uno simbolico però intanto è un passo avanti sullo sport che cosa mi piacerebbe fare e che cosa vorrei che venisse fatto ancora con più forza dal comune di Milano perché io è nel comune di Milano che diciamo che svolgo la mia principale azione e quindi è su questo che posso davvero esprimermi mi piacerebbe come dicevo un po' durante la mia introduzione che gli sport innanzitutto che Milano Sport che è una nostra società partecipata ampliasse l'offerta la tipologia di sport per le persone persone quando dico persone perché io intendo di qualunque età sport non deve essere solo per i bambini non deve essere solo per i giovani deve essere per tutte e tutti secondo me a prescindere dall'età ma non solo a prescindere dalle proprie capacità motori e intellettive e quindi ciò su cui stiamo lavorando anche col presidente di Milano Sport Antonio Iannetta è esattamente questo far sì che i prossimi bandi di gara quando noi diamo alle società sportive la gestione di alcuni nostri impianti gli chiediamo sì ma che sport fai ma se poi arriva un ragazzo sulla sedia a rotelle o non vedendo non udente tu hai la possibilità di fargli fare attività sportiva perché se non ce l'hai io non te lo faccio vincere questo bando cioè scriveremo dei bandi che siano inclusivi in questo senso mi viene in mente una 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 bella realtà che ho conosciuto che si chiama Accademia della Scherma che fa provare la scherma ai normodotati anche sulla sedia a rotelle anche bendati e così via si esce tutti insieme a cena ci si allena senza diciamo necessariamente mettere insieme solo i normo con i normo quelli che sono sulla sedia a rotelle con quelli che sono sulla sedia a rotelle ed è un approccio che secondo me è bellissimo ed è quello su cui io secondo me come politica noi dobbiamo fare puntare in questo senso all'inclusione ancora meglio mi piace di più il termine integrazione questo credo che è quello che dobbiamo fare questo è quello che ci siamo perlomeno nella mia commissione consigliare prefissate di fare anche in collaborazione con un mio collega che oggi non è qui ma che vi porta i suoi saluti che si chiama Alessandro Giungi e che è il presidente della commissione olimpiadi e paralimpiadi insieme lavoriamo gomito a gomito stiamo cercando insomma di fare tantissime cose importanti a Milano e spero che avremo modo di rivederci e riparlarne l'assessora allo sport Martina Riva è estremamente sensibile su questo tema e quindi che dirvi a me piacerebbe che Milano potesse essere per voi continui ad essere un punto di riferimento un po' come per me per esempio lo è il più istituto dei sordi su tutto il tema che riguarda il mondo della disabilità auditiva credo che il Centro Asteria sia davvero un'eccellenza un esempio e spero che potremo presto venire magari a organizzare un sopralluogo proprio con tutti i consiglieri comunali per apprendere quali sono le attività che vengono svolte qua quindi nel no stai lì grazie perché non riesco ad arrivare in più si mancherebbe nel davvero ringraziarvi ancora per il gentile invito io non posso che fare i miei migliori auguri soprattutto agli atleti li vedo così giovani e ho cercato di immaginare quali potessero essere i loro pensieri le loro speranze davvero io non posso che mandarvi un grande abbraccio virtuale farvi il mio migliore in bocca al lupo e spero davvero che come dicevano prima come è stata una richiesta molto bella scrivano di voi vi chiedano come sono andate come stanno andando le Deathlympics quali sono le vostre vittorie quali sono le vostre confitte le vostre sconfitte e quali sono le vostre vite perché è solo così è solo attraverso la conoscenza delle persone che fanno sport che poi magari uno si appassiona a quell'atleta piuttosto che a quell'altro a quello sport o a quell'altro quindi davvero io posso l'unica cosa che posso dire è che come Comune di Milano vorrei poi sentirci anche con Cattaneo chiedere se è possibile trasmettere sui social del Comune di Milano le Deathlympics perché insomma penso che qualcosa si possa fare anche dai nostri canali social affinché più persone sappiano del fatto che ci sono e che soprattutto seguano i nostri ragazzi e le nostre ragazze bocca al lupo grazie Angelica lascia pure poi ci penso io sì sì faccio io fai tu brava brava Angelica allora occupatene tu sei sicuramente più brava di me anche in questo tieni va bene Raffaele allora lo sport sordi è antessignano di tutto il movimento paralimpico e Deathlympics abbiamo detto sono giochi che con i giochi olimpici e con i giochi paralimpici sono i grandi eventi mondiali che si svolgono in questo caso per disabilità per disabilità auditiva ed è bello avere insomma tu presidente dell'ente nazionale sordi insomma avere una rappresentanza di questo tipo dal punto di vista sportivo chi è che mi mette in voce ecco benissimo innanzitutto un saluto a tutti i presenti e grazie a chi mi ha invitato oggi in questo momento così importante questo invito significa mandare un forte messaggio e ci assumiamo tutti una grande responsabilità sport sport e politica insieme quindi non parliamo di disabilità auditiva parliamo di sordi come dicevano prima le Deaflympics quindi in modo che le persone siano riconosciute per il loro modo di comunicare in qualsiasi forma in questo caso per esempio ci sono anche i sottotitoli ai giornalisti è giusto che noi diciamo che si tratti di atleti sordi quindi ci sono molte disabilità e quindi volevo correggere proprio i giornalisti perché poco fa in un'intervista poco fa ha vinto un Oscar un film intitolato Coda e ci sono stati tantissimi errori proprio a causa dell'uso sbagliato di alcuni termini che sono stati utilizzati legati appunto alla sordità i media hanno una responsabilità grandissima i nostri atleti anche perché appunto devono anche loro utilizzare i giusti termini che però vengono poi diffusi dai giornalisti quindi la diffusione deve essere molto importante e adeguata e quindi ecco si parla di sordi di sordi quindi anche per gli atleti paralimpici ci sono anche qui tutti i vari termini corretti quindi non parliamo di disabilità auditiva o di qualcuno che non sente parliamo di sordità o di persona sorda in quale una persona sorda che ha delle passioni in quale disciplina sportiva è brava e quindi l'attenzione è sul anche sui termini sulle persone sui sordi torniamo indietro e quindi nel mese di dicembre ho ricevuto l'invito appunto del CIP a un evento del CONI e quindi ho pensato che fosse una buona occasione e è stato veramente importante c'era il servizio di interpretariato io ero molto contento di essere appunto invitato insieme a tanti atleti che erano stati anche in Giappone i disabili che avevano partecipato alle Paralimpiadi poi ci siamo salutati ci siamo incontrati io e Luca Pancalli abbiamo ovviamente parlato di sport e di grandi obiettivi e grandi sogni anche insieme a Guido Zanecchi e quindi l'idea è stata proprio grande insieme al CONI e al CIP di creare una inclusione una inclusione anche attraverso l'accessibilità dei media in modo che gli atleti paralimpici hanno potuto insomma essere seguiti dalla RAI non è stato facile questo questo lavoro che però in concreto è stato appunto un lavoro di inclusione molto forte devo fare il mio applauso e i miei complimenti al CIP che si è sempre speso per portare noi sordi veramente ad arrivare a grandi obiettivi è stato una grande un percorso lungo ricco di insomma impegno e sforzo quindi ci mancava però sempre qualcosa da un punto di vista della diffusione da parte dei media spero quindi che con il sostegno del CIP ancora di più le televisioni possano parlare del Paralimpiadi e che poi si possa fare in concreto in modo attuativo per il futuro qualcosa di grande e sicuramente vorrei chiedere la massima visibilità non solo per le Paralimpiadi ma per le Olimpiadi dei Sordi per le Deaflympics quindi è questo che farebbe veramente la differenza ah ma c'è differenza tra un atleta paralimpico e un atleta sordo non nel sì certo un atleta sordo può partecipare a diverse discipline sportive ma grazie ai media si può arrivare veramente a comprendere qual è la differenza tra le varie disabilità e che cosa caratterizza proprio il mondo dei sordi e quindi si possono come dire superare tutte quelle difficoltà e quegli ostacoli che ci sono non diciamo più che una persona non sente beh è un atleta non vede beh è un atleta quindi fa delle discipline sportive in modi diversi ma la diffusione tramite i media è così importante che tutti quanti possano finalmente arrivare a capire quindi chiedo questa possibilità di andare insieme al CONI e veramente di essere all'interno che i sordi siano al pari degli atleti paralimpici quindi che siano inclusi nelle paralimpiadi quindi adesso un forte in bocca al lupo a tutti fateci un bellissimo regalo a noi alla federazione al CIP e tanti auguri in bocca al lupo a tutti quanti grazie vai posso fare un'ultima domanda magari mi puoi rispondere proprio un'ultima prego sto aspettando la risposta quindi è possibile che adesso no però che in futuro le Deaflympics siano messe all'interno delle paralimpiadi questo è quello che ci auguriamo se puoi rispondere io non posso rispondere quindi no no allora non è possibile si deve che è diverso fermo restando fermo restando oh benissimo grazie è questo che volevo sentire fermo restando io prima ho fatto un appello al vostro organismo internazionale il vostro organismo internazionale è molto esclusivista si tiene fuori dal mondo sportivo paralimpico con regole che a mio modo di vedere sono antidemocratiche noi dobbiamo fare lo sforzo noi per primi persone sorde persone disabili a capire che dobbiamo andare oltre le nostre categorie tu hai detto bene Raffaele siamo persone non abbiamo possiamo avere delle caratteristiche chi è sordo chi gli mancano le gambe chi sta su una carrozzina ma siamo tutte persone se l'organismo internazionale non si apre e non comprende che lo sport è un valore fondante dello sport è il principio di democrazia nella gestione degli organismi io temo che sia il CIO sia l'International Parampic Committee avranno sempre dei problemi grazie Luca ma noi ci aspiriamo a questo Raffaele quello pure io noi in Italia abbiamo messi volevo dire l'ultima cosa per chiudere magari se posso concludere assolutamente io sono d'accordo con quello che dici però il suggerimento di Guido è molto bello proprio di organizzare almeno da un punto di vista proprio mondiale degli eventi con la finalità di apertura con la finalità di inclusione e di integrazione è questo l'obiettivo assolutamente fondamentale posso dire una cosa io vi lancio una sfida perché poi noi dobbiamo in qualche modo contagiare i cuori ma ispirare le menti si si sei d'accordo cominciate a organizzare tra federazioni della famiglia paralimpica campionati italiani di nuoto insieme campionati italiani di atletica leggera campionati di pallavolo piuttosto insieme e saremo l'esempio nel mondo che si può fare quindi la sfida che io vi lancio non è che naturalmente il comitato è l'ombrello ma voi federazioni Guido conosce tutti i suoi colleghi probabilmente è più bello pure per chi verrà a vedere perché è un campionato italiano di nuoto vedere gli straordinari nuotatori sordi nuotatori sordi gli straordinari nuotatori paralimpici gli straordinari nuotatori con disagio intellettivo ma sempre prima di tutto straordinari e poi nuotatori il resto è un'aggettivazione che noi abbiamo abbandonato però deve partire dagli esempi l'Italia in questo può essere d'esempio come lo è su tante altre cose grazie credo che sia un invito importante questo fra l'altro guarda è stato preso ai massimi livelli quindi non è un impegno è un invito che io credo debba essere seguito anche perché saremo di più esatto fra l'altro fra l'altro aumenteremo il numero guarda che quello che succede qua sul palco del centro Asteria Luca poi va nel mondo io ricordo e c'è qua Ilaria che è la capitana della nazionale di volley che può confermare che la prima volta che la nazionale di volley eseguì l'inno nella lingua dei segni fu su questo palco un giorno durante uno di questi ritiri e poi quello straordinario lì inno cantato nella lingua dei segni ai giochi mondiali ai Def Limpics eccetera ha fatto il giro del mondo e tante nazionali o altre ora consentimi di ricordare una cosa che io vogli le ragazze della nazionale di volley all'inaugurazione del centro paralimpico a Roma del comitato italiano che è anche in corso alla presenza del presidente Mattarelli Ilaria ti ricorderai e quello non era soltanto un atto di presenza perché io non faccio mai le cose per presenza ma perché dietro ci si costruiscano dei messaggi subliminali su quel palco io ho voluto voi ma non perché eravate diventate di moda perché c'era il presidente della Repubblica quello era il centro paralimpico e voi fate parte del movimento paralimpico ricordate bene c'ero quel giorno e fu molto emozionante quindi l'invito è lanciato e credo che sia un invito molto importante ce lo ricorderemo quando poi riusciremo a realizzare questo sogno allora un sogno Giuse che tu hai realizzato proprio in Brasile quello di partecipare alle paralimpiadi queste Devlympics sono in Brasile mi ha fatto molto piacere quando gli amici del Pioistituto del Centro Asteria mi hanno detto guarda noi piacerebbe che come testimonial di questo evento ci fosse Giuse Versace che è diventata un punto di riferimento per il mondo della disabilità in generale ma in particolare del mondo sportivo anche per l'impegno che hai oggi come parlamentare insomma all'interno dei massimi organismi ma rimani un atleta e io ricordo quei giorni in Brasile quindi credo che l'imbocca al lupo tuo per loro che stanno volando in Brasile sia particolarmente significativo Sì intanto grazie per avermi voluta coinvolgere tra l'altro parlare per ultima mi agevola perché io ho rubato spunti davvero utili da tutti tolto che mi hanno anche anticipato perché hanno detto quello che avrei voluto dire io quindi adesso non mi resta che raccontarvi come dire uno spaccato di vita personale da atleta che ho vissuto e che ho piacere di condividere proprio in vista di questo viaggio in Brasile innanzitutto occhio la borsetta perché a me a Rio mi hanno fregato il passaporto vabbè ho capito Giuseppe ma tu vai in spiaggia lo metti lì di fianco no scusa erano finite le gare era l'ultimo giorno siamo stati nel villaggio olimpico dieci giorni l'ultimo giorno finalmente eravamo liberi sono andata nella spiaggia di Copacabana e vabbè e c'è sotto gli occhi davanti a dieci persone che erano con me nessuno si è accorto che un abile Lupin era appena passato e mi aveva fregato la tracollina della nazionale dentro la quale avevo tutto il passaporto il cellulare la cartina dopo me tutto che non so neanche perché me la sopportate in spiaggia se andate in spiaggia lasciate tutto in albergo ecco questo come esperienza personale però voglio dirvi intanto voglio ringraziarvi tutti io non posso che sottolineare che da parte mia c'è un'assoluta e totale disponibilità dico sempre usatemi come meglio ritenete opportuno nel senso buono del termine e devo dire che il buon presidente Santelli del CIP della Lombardia non se lo lascia dire due volte perché come può mi preme come un limone ma io lo faccio veramente con piacere perché è un un tornado di attività non so che prendi a colazione la mattina mi devi dare il nome del tuo spacciatore non è l'unico mi sembra voglio dirvi questo io ho perso le gambe in un incidente stradale 16 anni fa e prima dell'incidente non ero un atleta ero una sportiva come tanti ogni volta mi piace sottolineare la differenza tra l'essere sportivi e l'essere atleti lo sono diventata nella testa nel cuore nell'animo e a volte mi capita di incontrare gente che mi chiede ma torneresti indietro che è una delle domande più brutte che ti possono fare perché da un lato vorresti dire ma dall'altro però penso che se io non avessi perso le gambe probabilmente non mi sarebbe bastato un'intera vita imparare tutte le cose che ho imparato probabilmente non avrei neanche avuto modo di conoscere questo mondo così ricco pieno variegato che mi ha permesso di guardarmi allo specchio e di trovare nuovi stimoli di ricominciare da capo eppure all'inizio nel 2010 ho dovuto comunque affrontare ignoranza cattiveria e anche gente che mi diceva non sei in grado lascia stare ma chi te la fa fare ma andovai non hai il corpo d'atleta sei troppo magra e poi quando cammini sculetti che poi io sono una ironica Claudia lo sa insomma ci rido sopra sculetti una due tre io vivo a Milano da tantissimi anni mi sento mi sono milanesizzata però quando mi dicono così viene fuori la terrona che è in me la calabrese che è in me e quello è stato il momento in cui ho detto adesso corro per ripicca cioè più mi dicevano lascia stare chi te la fa fare più dicevo ora corro ma ho iniziato a correre non pensando di arrivare a un'olimpiade io ho iniziato a correre per dare uno schiaffo morale a quello che diceva che sarei caduta e che oggi se dovessi incontrare lo dovrei pure ringraziare perché se non mi avesse provocato così tanto io probabilmente non avrei mai indossato le mie gambe in carbonio non avrei mai iniziato a correre non avrei mai fondato una onlus non avrei mai fatto tutte le cose che ho fatto per completare poi la mia carriera vincendo 11 titoli italiani segnando dei record nazionali che portano ancora il mio nome e poter rappresentare anche l'Italia a tre europei due mondiali e poi finalmente alle olimpiade alle paralimpiade di Rio mi sento di dire Raffaele che difficile non vuol dire impossibile vuol dire solo difficile quindi molto dipende non solo dalla determinazione personale ma anche dal grande potere di convincimento che tu hai nel coinvolgere e convincere la gente attorno a te devo dire che in questo ecco il presidente assoluto è Pancalli perché lui riesce veramente a ottenere a convincere a coinvolgere con un talento che devo riconoscere quasi gli invidio perché quando abbiamo iniziato io me lo ricordo Claudio te lo ricorderai anche tu nel 2010 ancora non si parlava tanto cioè dovette arrivare un sudafricano in Italia ve lo ricordate Oscar Pistorius che accese i riflettori sul nostro mondo al di là della sua vicenda personale bisogna riconoscere a lui il merito di aver tenuto accesi i riflettori tanto che all'inizio quando io iniziai fui la prima donna in Italia a correre senza due gambe mi sembrava assurdo che io fossi sola l'unica non ci potevo credere e inizialmente mi chiamarono la Pistorius italiana dopo per un po' di anni continuarono a dirmi ma tu corri con le gambe di Pistorius e no io corro con le mie sono diciamo simili però grazie un po' a lui grazie al grande lavoro che il Comitato Italiano Paralimpico anche ha voluto fare nel stalkerizzare passatemi il termine la stampa i media e poi grazie all'alleanza straordinaria che si è creata con giornalisti attenti come te Claudio che non perché sei presente ma tu sei come dire hai scritto due libri bellissimi che si chiamano Paralimpici voglio ricordarlo perché poi tu sei modesto e non lo dici lo dico io lui ha scritto due libri stupendi la storia le Paralimpiadi Lorenzo Ruata Luca Corsolini tanti me ne vengono in mente che hanno attenzionato il nostro mondo e l'hanno saputo raccontare e poi forse Londra le Paralimpiadi di Londra hanno rappresentato la vera svolta perché furono garantite numerose ore di dirette a Sky in quel momento ma poi anche la Rai ha iniziato un po' ad adeguarsi e oggi vi dico la cosa più bella che mi succede che dopo tanti anni quando i bimbi mi riconoscono e tirano la giacchetta alla mamma non dicono più quella è la Versace poverina ha perso due gambe i bimbi dicono quella lì è l'atleta quella lì è la ballerina perché ho vinto anche ballando con le stelle e quindi qualche femminuccia diciamo le femminucce mi riconoscono più perché ho vinto ballando con le stelle però questo è il potere no? dei media di come raccontano la disabilità perché la disabilità è un ventaglio vastissimo dipende non solo come la vivi ma anche come la racconti può essere ci puoi nascere ma il più delle volte anche c'è un mondo che diventa disabile nel corso della vita e in base a come tu affronti perché io dico sempre che noi abbiamo questo di grande di bello ne ho parlato a lungo anche con solo Elisabetta tempo fa che ringrazio e la saluto perché per me è un ritorno piacevole qui al Centro Stedria e noi abbiamo questo grande grande regalo che la vita ci ha fatto quello di poter scegliere noi possiamo scegliere se vivere o morire scegliere se ridere o piangere scegliere se combattere o mollare questo a me l'ha insegnato lo sport l'ha insegnato il fatto che ho perso le gambe l'ha insegnato che io mi sono dovuta conquistare tante cose non perché mi chiamo Versace ho trovato il tappeto rosso io ho dovuto sgomitare più degli altri per dimostrare che avevo un po' di sale in zucca per dimostrare che valevo mi sono dovuta allenare per alzarmi dalla sedia a rotelle e mi sono dovuta anche conquistare quella benedetta sacrosanta e tanto desiderata convocazione alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 quanto ti sei divertito posso aggiungere qualcosa alle parole di Giussi posso aggiungere una cosa beh è sicuramente oggi molto difficile soprattutto quando ci sono delle difficoltà bisogna superarle e quindi vedere capire anche la sua storia quando ha detto mi sono dovuta alzare dalla sedia a rotelle è certo proprio la sensazione che si ha nel mondo della disabilità come nel mondo della comunicazione da un punto di vista della società richiedere l'attenzione e poi superare quella richiesta altre disabilità sicuramente hanno delle differenze rispetto all'assurdità però come guardo a lei e alla sua esperienza di dire senza gambe io comunque mi alzo e vado a correre posso correre quindi abbiamo tanta forza in più e dobbiamo esserne orgogliosi l'orgoglio c'è e ci sono anche le possibilità di superare le difficoltà in questo modo quindi il film il film Crimp Cramp su Netflix Crimp Cramp è stato molto bello sul mondo della disabilità appunto è un film che quando è uscito non l'aveva ancora visto e poi lì è pieno appunto di tutte le disabilità possibili e quindi c'è anche la sordità con la lingua dei segni con l'interprete e insieme si è richiesto di lottare per i nostri diritti civili quindi tante 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 è ambientato negli anni settanta e cinque ci sono il codice civile americano nel codice l'articolo 506 che è valido ancora fino ad oggi però che è doveroso continuare così in questo modo in questo modo per lottare e per combattere per l'inclusione perché lo sport l'inclusione sportiva è anche l'inclusione sociale l'inclusione politica l'inclusione scolastica e quindi volevo appunto collegarmi con quello che dicevi tu Giussi su questo argomento grazie volevo anche aggiungere in conclusione che io credo molto e penso che dobbiate come dire anche fare vostro pure un po' questo pensiero avete una grande responsabilità oltre che quella di rappresentare il nostro paese in Brasile e quindi tiferemo tutti per voi sono ben contenta che il Comune di Milano userà insomma proverà a usare i social anche per trasferire per raccontare per trasmettere le gare perché il nostro mondo che non è un mondo a parte si dice fa parte del mondo è una parte del mondo è vero bisogna saperlo raccontare perché io credo che lo sport abbia questo grande potere quello di raccontare le storie e di aiutare anche la gente a guardarci con occhi nuovi con occhi migliori e non con i pregiudizi questo aiuta soprattutto a comprendere quanto ancora c'è da fare perché tanto è stato fatto ma ancora c'è molto da fare per educare la società la gente è ancora ignorante sotto molti punti di vista non approfondisce rimane in superficie il nostro mondo può aiutare a comprendere che se vivi la disabilità con normalità anche la gente avrà un po' più di rispetto di rispetto quando occupa che manca quando occupano i posti invalidi per dirne una ma per dire ne potrei fare mille di esempi però io penso che ognuno di noi nella nostra sfera ha questo grande dovere quello di tanto non nascondersi e condividere tutto ciò che di bello riusciamo a fare io ho visto credo molto nello sport ma anche nell'arte nel cinema nella musica io conosco degli atleti e dei performer meravigliosi con disabilità che incantano il mondo un mio amico cantautore ha portato a teatro uno spettacolo bellissimo con venti persone sorde sul palco che ballavano e interpretavano il testo della canzone che lui cantava in quel momento io rimasi scioccata perché non capivo come potessero andare a tempo come potessero simultaneamente interpretare non era tradurre era interpretare il testo della canzone ci fu una standing ovation immensa mi dispiace solo che quello spettacolo costava tanto e non si poteva portare in giro più di quanto in realtà secondo me meritasse l'Oscar dell'altra sera quell'attore sordo due attori se non sbaglio sordi sicuramente chi non fa non sbaglia gli errori ci stanno però penso che rappresenti un segnale importante perché finalmente la gente è entrata ha iniziato anche a entrare un po' a cambiare le lenti degli occhiali come dire a guardare alla disabilità anche come una risorsa per la società e non necessariamente come un peso in più lo sport educa forma insegna il rispetto delle regole per se stessi e per gli altri non penso di dire nulla di nuovo solo che noi ce lo dobbiamo ricordare ricordiamoci sì che siamo atleti io negli ultimi anni non sto gareggiando ma cioè chi è stato atleta lo rimane per sempre anche te sei atleta presidente eri ero atleta io continuo a dire che ho ancora un buon addominale che regge testa alle ventenni vi faccio un grande in bocca al lupo spero veramente di poter vedere le gare soprattutto spero di poter organizzare al vostro rientro un'altra iniziativa qui alla steria perché no e magari anche in un'altra in altre sedi penso fortemente che iniziative di questo tipo vadano replicate perché la gente ha bisogno di di sentirne parlare di conoscere non può essere soltanto un momento spot deve essere un lavoro costante e quotidiano qui penso sul palco veramente avete radunato gente tutte persone che ci credono fortemente ognuno nel proprio ambito quindi la mia massima disponibilità c'è e mi permetto anch'io di ringraziare gli sponsor perché avendo io una no profit una onlus so quant'è dura trovare gente che ci crede investe che promuove e sposa le iniziative che a fatica si portano avanti li ringrazio tra l'altro sono di parte perché il gruppo cattolica ha promosso e appoggiato anche mia iniziative della mia onlus di Sabine e poi chiudo dicendo Presidente che è tanto lavorato e fortemente voluto questa legge dei paralimpici nei gruppi sportivi militari e corpi dello Stato che ringrazio Presidente Pancali per averlo ricordato che alla fine abbiamo trovato diciamo una sintesi nel testo perché bisognava trovare purtroppo una sintesi un equilibrio non si poteva mettere tutto ma che la legge è aperta alle disabilità fisiche e sensoriali quindi già i sordi possono come dire essere inclusi in un gruppo sportivo serve però che la federazione faccia anche il comitato paralimpico faccia un bel lavoro di convincimento con i capi dei gruppi sportivi affinché insomma trovino lo spazio giusto nel bando per poter dare questa opportunità anche a un atleta sordo non vi voglio più annoiare vi ringrazio per avermi coinvolta un grande grande in bocca al lupo ma come si dice in bocca al lupo nella lingua dei segni come si fa così ah così allora in bocca al lupo Claudio permettimi di aggiungere due cose perché poi naturalmente parlando le ispirazioni vengono sull'impegno quello ce lo mettiamo non ti preoccupare già me lo sono preso e ci riuscirò sicuramente perché già siamo a un passo avanti ho necessità dei tempi tecnici due cose una vorrei ricordare per onore e rispetto io sono sempre molto rispettoso di istituzione il ministro Spadafora perché quella norma è stata inserita in un decreto di riforma che porta diciamo così il nome ministro Spadafora o meglio ricordato perché era ministro che ha colto la palla al balzo di attenzionare qualcosa che era stato presentato in Parlamento e del quale noi gli stavamo rompendo non voglio essere volgare ma gli attributi da un po' di tempo perché cogliesse il treno veloce per arrivare al risultato per cui abbiamo avuto l'allineamento perfetto dei pianeti la seconda la cosa più bella dell'Oscar a mio modo di vedere non tanto e non solo gli Oscar tra i due attori sordi ma una cosa forse apparentemente più insignificante ma che non lo è l'applauso da parte della platea che è molto come dire è passato quasi nella normalità ma quello significa che in qualche modo stiamo aiutando il mondo a cambiare è verissimo è verissimo grazie Luca anche di averlo di averlo sottolineato tanti messaggi che stiamo lanciando oggi insomma ci avviciniamo alla conclusione adesso abbiamo entriamo però nel vivo proprio dei giochi che si svolgeranno in Brasile e intanto volevo dire a Vera che bravissima sta occupandosi dei sottotitoli che il titolo di quel docufilm che ha citato Raffaele è Crip Camp non Climp scusate era solo perché così rimane Vera è bravissima quindi grazie a Vera grazie a Lucia e Chiara scusatemi che non ho citato prima le interpreti per la lingua dei segni grazie a tutte e tre e entriamo dicevo nel vivo con il saluto insomma anche di quella che sarà la portabandiera l'abbiamo citata prima Viola Strazzari è indisposta in questo momento ma ci ha mandato un video di saluto era il saluto di Viola che appunto essendo in questo momento positiva è a casa ma ci raggiungerà prestissimo ne siamo sicuri allora per i particolari li trovate naturalmente nella cartella stampa quindi c'è poco da aggiungere però vorrei invitare Carlo Murphy che è responsabile dell'attività sportiva per la federazione a darci un pochino quelli che sono i numeri di questi Deathlympics vieni vieni Carlo aspetta che prendiamo un microfono segno userò la lingua di segno l'interprete ho l'interprete allora prima di tutto le Deathlympics saranno dal primo al 15 di maggio a Caxias do Sul in Brasile nella parte sud a dire la verità come è già stato detto è la prima volta che in Sud America si tengono le Deathlympics vi do un pochino di numeri un pochino spot la delegazione è numerosissima quest'anno parliamo di 90 atleti circa più o meno tra maschi e femmine il numero è quasi pari non c'è una grossa sproporzione tra uomini e donne atleti donne e atleti uomini partiamo dal calcio si inaugura con il calcio ovviamente e basta 29 sì il 29 aprile partiamo con il calcio e poi da lì tutte le partite fino al 15 di maggio lo sport sono 11 discipline saranno presenti 4 sport di squadra e basta grazie Carlo sei stato conciso ma tutti i numeri li troverete poi comunque nella cartella stampa e vi dicevo proprio dal punto di vista dei numeri Deathlympics sono giochi che dopo le Olimpiadi e insieme alle Paralimpiadi sono anche dal punto di vista numerico i giochi più più importanti pensi tu a sterilizzare grazie grazie mille Angelica e allora adesso però lascio il microfono a Betta Elisabetta Ferri responsabile della comunicazione della federazione prego prego Elisabetta perché ci sono dei saluti della platea che riguardano chi sarà poi ai giochi ma anche di chi ha permesso alla delegazione italiana di raggiungere il Brasile Elisabetta saremo rapidissimi perché ci sono tanti giornalisti che devono fare delle interviste quindi gli sponsor come abbiamo detto sono il nostro sostegno e chiamo un attimo per un saluto Herminia Frigerio di Cattolica Assicurazioni guardiamo la telecamera così ci vedono anche a casa grazie allora è molto difficile parlare adesso dopo tutte queste cose che sono state dette comunque io porto il saluto chiaramente l'imbocca al lupo grandissimo con grandissimo affetto da parte di tutta Cattolica i dipendenti vi seguono vi seguono anche i nostri agenti e in particolare le ragazze della Pallavolo a cui siamo molto legati da un po' di tempo e che ci hanno dato davvero grande soddisfazione solo una cosa volevo dire abbiamo toccato tanti temi oggi pomeriggio sicuramente questa sarà un'esperienza unica incredibile per voi credo che il sogno di tutti di qualunque atleta è arrivare in un'olimpiade indossare la maglia indossare il tricolore e all'estero ancora di più ma arriviamo a questi giochi in un momento molto particolare arriviamo dopo una pandemia che forse proprio da oggi forse non è neanche un caso passa o comunque sta passando o tutti ci auguriamo che passi ma soprattutto arriva in un momento in cui i valori sono ancora più importanti con una guerra che purtroppo ci lambisce e noi pensiamo che il valore dello sport abbiamo parlato tanto di inclusione di coesione di superamento delle barriere sia anche questo le olimpiadi sono anche un messaggio di valore e anche un messaggio di pace tra le persone tra le nazioni quindi con questo spirito ancora di più vi seguiamo con affetto e facciamo il nostro grandissimo in bocca al lupo ciao a tutti grazie erminia claudio de albera sella personal credit sono molto invidioso della capacità scenica di tutti quelli che hanno partecipato a questo evento sella personal credit ha avviato da tempo un progetto che permette l'accessibilità dei nostri prodotti al mondo dei sordi la partecipazione a questo evento che introduce un evento sportivo così importante come le deflimpics per noi è il perfetto passo successivo rispetto all'impegno che abbiamo preso per sella personal credit poter essere vicini anche solamente in parte al sogno sportivo dei ragazzi della federazione sport e sordi che rimangono gli assoluti protagonisti di tutto quello che oggi abbiamo discusso in questa sede è assolutamente un orgoglio a questi ragazzi va il nostro in bocca al lupo per raggiungere i migliori risultati sportivi ma per godersi come persone il momento straordinario che potranno vivere in Brasile quindi tanti auguri e complimenti grazie a Claudio ringraziamo anche l'ordine dei cavalieri di Malta che non hanno potuto essere presenti e l'ultimo contributo è un video di Arianna Ranocchi della famiglia Ranocchi che è sempre stata vicina alla federazione sport sordi italiana 35 secondi non abbiate paura buon pomeriggio vi mando un saluto da Pesaro ma soprattutto a nome mio e della mia famiglia vi faccio un enorme in bocca al lupo per l'avventura che state per intraprendere sin dall'inizio mio padre vi è stato vicino perché crediamo che la vostra forza la vostra determinazione e grinta siano una grandissima fonte di ispirazione per tutti noi forza ragazze crediamo in voi vi aspettiamo al vostro rientro in Italia ci hanno detto di accorciare i tempi quindi io chiamo vicino a me tutti i capitani non so se possiamo riuscire ancora a fare un saluto sì no facciamolo ok allora per prima invitiamo la capitana della nazionale di basket femminile vincitrice dell'oro agli ultimi europei simona casce buonasera a tutti intanto volevo ringraziare la federazione che ci permettono di partecipare a queste olimpiadi per me è la terza volta a cui partecipano di affilipi però è sempre emozionante perché è una cosa che partecipiamo con tanti sport quindi di rappresentare casa italia dalla possibilità di conoscere nuove persone e creare nuove musizie spero di poter confermare i risultati che abbiamo ottenuto a ottobre con la vittoria degli europei lo vedremo partita per partita in bocca a tutti i miei colleghi grazie grazie Simona invito ora Simone Ianiro capitano della nazionale di volley maschile vincite del bronzo agli ultimi mondiali tu segni buon pomeriggio a tutti grazie per l'ospitalità da più istituti e soldi alla federazione protezione d'Italia e al comitato italiano parlo piatti lo scambio di preparare meglio per il della FIPISI nel Brasile che è una classe e un vetto che sarà emozionata per tutti io ho partecipato alla FIPISI io posso capire come ha fatto la FIPISI io faccio un poca gruppo per la prima volta che partecipa alla FIPISI noi abbiamo unito del supporto amortiale e noi cerchiamo di mantenere l'apporto speriamo di far bene un poca gruppo per tutti amore grazie bocca al lupo a te grazie Simone e adesso abbiamo Davide Grippo capitano della nazionale di calcio a 11 che deve tenere alto l'onore del calcio qui vuoi segnare ok allora puoi guarda l'interprete ti è però tu puoi stare lì eh sali ok vieni vieni buonasera a tutti sono il capitano della nazionale 11 grazie alla federazione grazie al presidente Pancalli grazie all'assessore grazie a Lens grazie a tutti i presenti volevo fare un bocca al lupo a tutti e parlare un pochino della nostra squadra di calcio 11 noi dobbiamo ringraziare anche il nostro alnatore i compagni e abbiamo avuto non tantissima esperienza dire la verità l'ultima partita è stata nel mese di settembre e ci sono stati problemi con il covid ovviamente certo che la motivazione comunque è aumentata tantissimo anche grazie ai nostri allenamenti arriviamo siamo arrivati agli ottavi e poi bisogna vedere un enorme in bocca al lupo a tutti il mio supporto all'Italia e anche vi porto nel cuore grazie Davide io chiamo a concludere ormai è stata citata la conoscete tutti Ilaria Galbusera capitana della nazionale di volley femminile che ha portato a casa agli ultimi mondiali la medaglia d'argento buonasera a tutti permesso che sono molto emozionata come le mie compagne sono usciti i gironi qualche giorno fa insomma siamo molto cariche per poter affrontare questa nuova esperienza questo nuovo percorso oltre ai ringraziamenti che hanno già fatto i miei colleghi ci tengo veramente tanto a ringraziare il mio istituto che ci ha visto crescere eravamo piccole quasi quattro cinque anni fa siamo state le prime ad arrivare qui ad allenarci fare questa preparazione ed è una vera emozione poter vedere che ci sono aggiunte anche tante altre squadre e naturalmente ci terrei tanto a ringraziare Loredana Bava che con un grandissimo lavoro ha permesso di poter realizzare tanti nostri sogni anche Stefano Cattaneo e tutta la famiglia del mio istituto anche il centro Asteria che ogni volta ci accoglie con un grandissimo affetto e con un grandissimo supporto quest'anno siamo quattro squadre e sarà veramente importante supportarci e sottenerci a vicenda proprio perché quest'anno forse più che mai potrebbero esserci buone possibilità in bocca al lupo a tutti grazie Ilaria Claudio ti ripasso la palla per le conclusioni grazie no le conclusioni sono velocissime grazie di essere stati con noi voglio ringraziare naturalmente tutti coloro che erano qui con me sul palco sono presenti anche c'è una grande campionestra quindi io sono sempre contento quando posso salutare Claudia Giordani che rappresenta il CONI anche a livello nazionale ciao Claudia grazie di esserci Giuliana Cassani l'ufficio scolastico Lombardia per quanto riguarda lo sport e poi per il Municipio 5 l'Usa Gerosa e Elisabetta Genovese della cultura sport ed istruzione del Municipio grazie di essere stati con noi Claudia grazie per aver rappresentato il CONI e per rappresentare il CONI anche a così alto livello grazie davvero a tutti voi so che ci sono dei giornalisti che vogliono fare delle interviste possono farle naturalmente quelle video vi chiederei di salire visto che abbiamo qua anche il logo dei Devlimpics grazie a tutti e buoni Devlimpics per l'Italia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti